Numeri positivi sulla presenza turistica in città nei primi weekend del mese dall'Altitalia da Bologna, ultimamente diverse commetive si sono viste all'Aquila e si sono viste anche le telecamere di una truppa tedesca che sta realizzando un documentario di 40 minuti sui beni culturali. È un dato positivo secondo i commercianti il fatto che, scemata la curiosità del terremoto più stretto, nel senso ovviamente del post-sisma più immediato, la gente venga a vedere come va avanti invece la ricostruzione della città. In questi primi weekend di luglio come va il movimento turistico in città? Abbastanza bene, c'è il movimento, specialmente la mattina, rallenta un po' il pomeriggio con il caldo dalle tre fino alle sei non gira nessuno, dopodiché ritorna un po' di gente in giro. Da dove vengono le persone che incontra anche nel suo negozio? Ma da tutte le parti, molti dell'Alta Italia, l'altro giorno per esempio sono venuti parecchi di Bologna, parecchi tedeschi, finlandesi ci stavano, c'è parecchia curiosità ancora per l'Aquila. Per quanto riguarda la vendita, comprano souvenir, cioè qual è l'oggetto che poi riportano a casa come ricordo di questa città? Ma maggiormente sono cartoline e calamite, però rispetto ai primi anni successivi al terremoto è un po' scemata la vendita, è diminuita, però c'è sempre movimento. Ecco, il movimento fa ben sperare comunque, non è scesa l'attenzione sull'Aquila? No, 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 questo è importante perché molta gente viene anche per vedere, non soltanto per curiosità quella morbosa che c'era un tempo, anche per vedere quello che si sta facendo all'Aquila e quello che è successo veramente all'Aquila, perché se non lo vedono loro, cioè con gli occhi bisogna vederlo e non attraverso la televisione.